Come impatto con i compagni? Hai avuto già modo di legare con qualcuno in particolare? Magari con Manfrin che è il tuo concorrente sulla fascia? Ti dico, comunque ho avuto per ora un buon impatto con tutti, sicuramente ho un buon rapporto con Bannucchi perché ho già giocato insieme a lui, quindi da lì posso cominciare comunque a creare un rapporto con la squadra, comunque avere un buon rapporto con tutti significa sicuramente anche essere più utili e avere più gruppo comunque in campo, quindi da questa base cominciamo a fare anche un lavoro importante. Il mister che sensazioni ti ha dato? Il mister comunque non l'ho mai avuto prima, non ci ho mai giocato contro, però da come mi hanno parlato tutti è un allenatore capace, sa far giocare bene la squadra, di conseguenza sicuramente darà il suo contributo anche lui e mi aiuterà a me e alla squadra soprattutto a crescere.